Ok ragazzi, come allenare i polpacci? Normalmente si dice che i polpacci sono una questione di genetica o ce li hai, sei fortunato e puoi anche non allenarli, tanto hai due magnotte così oppure non ce li hai, ti devi dannare perché sono sfigate e non ti cresceranno mai È vera questa affermazione? Avete mai visto gli anziani di paese che molto spesso hanno dei polpacci grossi così che perdono i vidi a un bodybuilder? Ora, potrebbe essere una questione di genetica, in effetti molto spesso lo è Però in realtà un altro fattore determinante è il fatto che tendenzialmente sono persone attive i paesi molto spesso hanno diverse salite vuoi per i lavori manuali che fanno da tutta la vita vuoi per le camminate, le passeggiate che si fanno nelle salite di paese i polpacci sono sollicitati e allenati molto spesso Stessa cosa avviene per soggetti obesi che normalmente hanno dei polpacci molto grandi In effetti uno dei fattori più determinanti dei polpacci carenti è il fatto che non si allenano a dovere Per tornare al mondo del bodybuilding parliamo dello stesso Arnold che diceva di avere una forte carenza dei polpacci e quello che ha fatto semplicemente è stato un aumento del volume settimanale del lavoro sugli stessi ed è riuscito a recuperare questa carenza Qui in soldoni le strategie da utilizzare sono due C'è chi preferisce inserire una routine singola dedicata ai polpacci settimanale quindi in questo modo si riesce ad aumentare il volume in una singola seduta e ci si concentra sul gruppo muscolare invece di lasciarlo come comunemente si fa alla fine di una seduta di gambe chi invece preferisce inserire i polpacci alla fine di ogni seduta In entrambi i casi la determinante qual è? Che si aumenterà il volume totale di allenamento settimanale quindi sostanzialmente i polpacci saranno sollicitati maggiormente Molto efficace come tecnica è il picco di contrazione quindi rimanere in omisometria in alto Questo perché il polpaccio tendenzialmente ha una forte difficoltà a essere attivato il tendine tende a rubare molto lavoro e quindi il picco di contrazione ci permette di sentire bene l'attivazione muscolare e lavorare sulla stessa Quindi vediamo che i polpacci sono un gruppo muscolare come un altro e la determinante chiave per l'ipertropia sono volume, frequenza e impegno Poi se siete sfigati geneticamente, insomma, sempre sfigati rimarrete Grazie 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 a tutti